Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per mercoledì 10 gennaio 2024. Un vasto anticiclone con centro a nord del Regno Unito staziona da giorni in loco e dà vita ad una configurazione prettamente invernale sullo scacchiere europeo, dominata da una discesa fredda di natura russo-scandinava in azione sul comparto orientale europeo con una lingua estesa sul centro Europa. Ad ovest di tale anticiclone il flusso atlantico è costretto a scorrere a basse latitudini, ripresentandosi in area medio-mediterranea attraverso una serie di impulsi perturbati in interazione con l'aria fredda richiamata da est. Previsioni meteo in area italiana per mercoledì 10 gennaio 2024. Nord. Molte nubi, con addensamenti più compatti procedendo verso ovest, in ulteriore intensificazione nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio ingresso di deboli precipitazioni tra Liguria di Ponente e Piemonte meridionale, qui con neve fino a bassissima quota dato il permanere di aria fredda lungo la colonna d'aria. Centro. Nuvolosità sparsa al mattino, con tendenza ad un graduale aumento delle nubi sul comparto tirrenico, dove dal pomeriggio si avranno delle deboli piogge lungo i litorali. Le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi dalla sera. Qualche piovasco anche lungo la fascia adriatica dovuto ad un flusso di aria fredda da est. Quota neve attorno ad 800 metri. Sud e isole. Un minimo depressionario si avvicina alle due isole maggiori, portando in loco un marcato peggioramento con piogge diffuse e qualche temporale, in trasferimento dalla tarda serata sul comparto basso tirrenico. Altrove nuvolosità irregolare con sporadici piovaschi. Temperature massime in ulteriore diminuzione soprattutto al nord e dal centro nord. Minime in calo un po' su tutte le zone. Valori al di sotto della media, da implicare ad un flusso di aria fredda da est oramai al suo massimo. Ventilazione generalmente moderata dai quadranti orientali, tendente a rotazione ciclonica sul comparto insulare e meridionale, dove ci saranno dei rinforzi. Mari da mossi in area adriatica a molto mossi altrove, con moto ondoso in lieve aumento dal pomeriggio. Tendenza in area italiana per giovedì 11 gennaio 2024 e venerdì 12 gennaio 2024. Un minimo depressionario tenderà ad insistere sul comparto insulare nella giornata di giovedì, portando in loco piogge diffuse e qualche manifestazione temporalesca. Le piogge insisteranno anche al centro-sud, seppur in forma più debole e sparsa. Altrove nubi irregolari con ampie schiarite in ingresso al nord. Proseguirà il flusso di aria fredda da est con temperature sotto la media specie al nord e dal centro-nord. Neve in appennino centro-meridionale anche fino ad 800 metri. Miglioramento al nord venerdì, in rapida estensione verso sud fino ad interessare l'area centrale. Ancora marcata instabilità all'estremo sud e sulle isole con piogge a tratti diffuse. Temperature minime in calo al nord e centro-nord. Venti in attenuazione. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate. Grazie a tutti.